Quando ero guaglione, tenevo passione, soltanto a studiare. Noi per vicino e greco latino mi avevano parlato, pensando vogliono com'era una bella figura plena d'età. Noi per vicino e greco latino mi avevano parlato, pensando vogliono com'era una bella figura plena d'età. Noi per vicino e greco latino mi avevano parlato, pensando vogliono com'era una bella figura plena d'età. La sera dottrina non era mancata, tutte le sere scappava da casa, a correre a chiesa, felice e prena. Ma pota presentaste tu, ecco voi prega chi, che l'annucentità sono buonaia, e chiesa santa tutta abbandonaia. Ma pota presentaste tu, ecco voi prega chi, che l'annucentità sono buona. Ma pota presentaste tu, ecco voi prega chi, che l'annucentità sono buona. Grazie a tutti.